Il gruppo Gabrielli ha scelto di rafforzare il proprio impegno nei confronti delle fasce sensibili della popolazione lanciando l'operazione Tigre a tuo fianco. Come già accade presso i punti vendita Oasi, i possessori di carta unica potranno ricevere dietro consegna di un documento di identità, un certificato e comprovante nella propria situazione professionale quattro buoni che danno diritto ad uno sconto del 10% da spendere uno alla settimana per un mese. È una gran bella iniziativa, dare la possibilità alle famiglie in questo periodo e quello futuro di avere uno sconto è sempre stato un obiettivo anche nostro come sindacato. Sì, è un'iniziativa che adesso è stata e stessa a tutto il Molise, siamo contentissimi perché torno a ripetere, questa è una regione che in particolare ha subito pesantemente la crisi dove i dati di cassa integrazione e mobilità sono veramente eccellenti.